Tre alimenti che qualsiasi donna dovrebbe consumare dopo i 35 anni e abbiamo i mirtilli che è un antiossidante quindi aiuta nella prevenzione delle malattie cardiovascolari contro l'invecchiamento precoce anche nella salute del nostro cervello. Un altro alimento sono i broccoli che è anche dimostrato che sia un alimento antitumorale ma attenzione se soffrite di ipotiroidismo consumatelo in quantità minori e soprattutto deve essere lessato. Il terzo alimento sono i pesci azzuri, abbiamo il tonno, le sarde, il salmone, contengono omega 3 utili alla salute del nostro cuore e cervello e previene le infiammazioni delle articolazioni. Quindi consumate questi alimenti, rallenterete l'invecchiamento e sarete più sani.